Musica Così come Siena ha un'università, Firenze ha un'università e Pisa lo stesso, Arezzo può tranquillamente diventare il polo concorsoale, ma perché no, anche formativo della Sanità Toscana. Arriveranno da tutta Italia in città ogni anno dai 20 ai 30 mila candidati. All'Arezzo Fiere Congressi si svolgeranno infatti i concorsi della Sanità Toscana. È stato siglato un accordo tra Arezzo Fiere, Telecom e Estar, l'ente tecnico amministrativo regionale di supporto alle aziende sanitarie. Allora, questo accordo, o meglio, questo bando che è stato vinto da un raggruppamento temporaneo di imprese con la maggioranza di Arezzo Fiere e Telecom Italia, o meglio team in questo momento, dà la possibilità di organizzare tutti i concorsi della Sanità Toscana per i prossimi 4 anni ad Arezzo. Quindi si parla di circa 30 mila candidati l'anno, si parla di circa 85 nuove assunzioni per le quali a brevissimo partirà il bando e quindi un indotto di svariati milioni di euro per la nostra città. L'investimento è piuttosto consistente perché si parla, diciamo, intorno al milione di euro nei 4 anni. Ovviamente, a fianco di questo, il bando prevede circa 2 milioni di euro fino a un massimo di 3 milioni che Estar dovrà corrispondere a questo raggruppamento di imprese. Sarà importante anche il contributo tecnologico? Assolutamente sì, perché per la prima volta si parla di concorsi fatti, oltre con il lettore ottico, come tradizionalmente vengono fatti, fatti con i tablet, con una app appositamente studiata da Estar che impedirà completamente qualunque tipo di errore o, peggio ancora, qualunque tipo di manipolazione del concorso. Quando si concretizzerà questo progetto? I primi concorsi tecnici di prova partiranno a febbraio. Il primo grande concorso sarà a marzo del 2018, quindi molto, molto a breve.